Ora vi disegno Elon Musk e nel mentre che ve lo disegno appunto se anche solo altri due di voi, e parlo proprio con te che ancora non mi hai voluto seguire, mi volessero aiutare, grazie. Comunque andiamo a disegnare Elon Musk e ti adoro tantissimo, grazie utente, troppo gentile. Un bel naso importante per Elon Musk e poi lo facciamo abbastanza sorridente, dopo tutto ha tanti soldi con cui spassarsela, un po' rugoso perché ormai c'ha già la sua età, e due belle orecchie quadrate, e poi i capelli, i capelli li facciamo abbastanza classic. Qua magari è un po' spettinato, non lo so, in insta foto è un po' spettinato quindi lo teniamo cosà, e va bene, lo teniamo così, gli facciamo due roghine anche sopra, che ormai ha già la sua età, se Elon Musk mi vede questo disegno mi banda da tutti i social ormai. Qualcuno ha già visto l'aggiornamento di Brawls? È bellissimo con i nuovi hyper, non so cosa sono gli hyper, quindi non so cosa dirti. Ti sto mettendo tantissimi like, ti ringrazio Asia, gentilissima e grande attenzione Samuele per il Lobami, proprio in questo momento. E tu guardi Marefuori, la nuova stagione non l'ho ancora vista, però la volevo vedere per appunto recensirvela sul canale YouTube. Intanto, scusate, fatemi ringraziare al volo anche Giovanni, grazie per avermi seguito proprio in questo preciso momento, grazie. E mi raccomando, se voleste seguire l'esempio di Giovanni e seguirmi anche voi, grazie, sareste gentilissimi, veramente. Comunque, occhio 1, occhio 2, c'è sempre il problema con gli occhi quando li faccio così grandi, e invece no, dai, è venuto abbastanza bene. Poi, dato che il nostro Elon è abbastanza un burlone, c'è lo scherzo facile, vi faccio gli occhi sbarrati sotto. In questa maniera. Quando faccio i personaggi con questa espressione, vi diverto da matti. Come ti chiami su YouTube? Sempre Michele Federico. Stesso identico nome che ho qui, ce l'ho anche su YouTube. E veramente grazie per chiunque volesse passare anche solo un po' in assoluto. Vi ringrazio, sareste molto gentili, bro. Ti esce scritto il numero? Ah, spesso parlassi con me, scusami. Basta darmi del gatto, basta darmi del gatto, ma che è? Sono più i soldi di Elon e... Non è una cosa difficile. Gli hyper sono dei potenziamenti con cui i personaggi diventano super saiyan. Ah, il tipo livello 11 che hanno? Eh, non ce li ho dei brawler a quel livello, non ce li ho, quindi... Non li ho mai usati io. Allora... Io direi che sta avvenendo carino il mask, eh. Adesso cerchiamo di non fare degli errori proprio sul finale. Intanto ringrazio anche Anna Maria per avermi seguito. Grazie di cuore per il follow, gentilissima. Grazie, grazie, grazie per avermi seguito. E mi raccomando, eh, se mi voleste aiutare anche voi a seguirmi, grazie. Essereste gentilissimi. Sei maschio o finna? Sono sempre maschio, ma non avete nulla da fare che scrivere queste cose. Purtroppo mi sa che non ha niente di meglio da fare. È un gatto continuo ormai nelle mie chat, è tipo veramente un gatto continuo. Allora, gli facciamo un ciuffo con una bella tripla punta, in questa maniera. Lo so che non sembra molto Elon Musk, però è che è proprio difficile secondo me Elon Musk da disegnare. Essendo un personaggio reale è abbastanza difficile da fare. Però io qua gli potrei fare la cravatta. E una sorta di felpina, una cosa carina. Basta darmi del gatto, ragazzi, ma che è? Basta spammarmi il gatto. Ciao Gai, benvenuti live. Grazie Esipina per avermi seguito proprio in questo preciso momento. Grazie di cuore per il follow. Comunque, l'ultimo tocco di classe al nostro Elon Musk, io direi di darlo con un pennarellino grande. Questo. Stavo già anche mangiando un capello, che schifo. Ciao Tre Aziz, benvenuti in live. Posso dire però là, cioè, sarebbe meglio di no. Sarebbe meglio di no. Puoi disegnare Boots? È un brawler? Lo puoi cercare su Google, please. Certo, se rimane tempo te lo disegno volentieri. Molto volentieri. Comunque, l'ultimo tocco glielo do così ai capelli. Guardate qua. Vi faccio seguire il flusso della testa, quindi in questa maniera. Cosa stai disegnando? Sto disegnando Elon Musk. E come sempre, per chiunque volesse venire a vedere dall'alto, sono anche su YouTube, con la telecamera dall'alto. E vi aspetto volentieri, nel caso. Comunque dai, sta venendo caruccio, dai. Che ve ne pare del mio Elon Musk nel mio stile? Aspettate che ve lo faccia vedere anche a voi, il Elon Musk nel mio stile vicino a... E il primo... E il primo va urlato quando c'è. E quando ti tagli i capelli per il momento... A parte che li ho tagliati due giorni fa. Li ho accorciati un po'. Che stavano diventando troppo lunghi. Quindi in realtà li ho tagliati da poco. Li ho tagliati due giorni fa i capelli. Ti sto mettendo tutta la forza che ho nel mio corpo per cancellare. E mi raccomando, date un voto anche a Elon Musk. Bellissimo, Fede, ti ringrazio Super Saiyan. Comunque spero vi piaccia. Sei bravissimo a disegnare, ti ringrazio, utente. Grazie a tutti.